ben ritrovati dalla redazione di news24.city sansevero sequestro di persona e tentato omicidio di un 28enne, 4 arresti, l'uomo ferito se la cavò con 40 giorni di prognosi. Trigiano, banda della BMW, finisce in manette anche il sesto componente, si tratta di un 41enne albanese che si è costituito alla caserma di Cassano. Brindisi, mafia, 4 arresti della DIA, arrivano le condanne definitive, arrestati, capeggiati da clan affiliato alla Sacra Corona Unita. Puglia, spaccio di droga tra Brindisi e Lecce, 10 arresti dei carabinieri obbligo di dimora nei confronti di 11 persone. Bari Star Wars, disegnato sull'ecstasy per accattivare i clienti, arrestata, 21enne, supermarket della droga scoperto dalla polizia, appoggio franco. Taranto, sbarcati 83 migranti pakistani, tra loro 12 minori arrivati all'isola di San Pietro e trasportati all'hotspot del capoluogo ionico.